I cittadini cambiano abitudini e necessità e le città del domani dovranno adattarsi alle loro nuove esigenze. Da un lato l'innovazione tecnologica sta influenzando il nostro modo di vivere e lavorare, dall'altro il Covid-19 ha fatto emergere una serie di fragilità del modello di città del presente che potrebbero influenzare le evoluzioni future. Come saranno le città friulane e italiane? Quali servizi vorranno gli abitanti per le loro strade, negli edifici e nelle abitazioni? Il modello friulano in cui la provincia è preponderante e con una sua vitalità, come reagirà in questo contesto di trasformazione? Ben trovati alla settima puntata di Future Forum, il domani inizia oggi. Vi accompagneremo in questa puntata in un viaggio alla scoperta delle città del futuro, città, tecnologie e reti verso le smart cities. Questo il tema della puntata e come sempre gli onori di casa aspettano al presidente della Camera di Commercio Pordenone Udine Giovanni Eda Pozzo, intervistato dal direttore del Messaggero Veneto Omar Monestier. Bentrovati a tutti, oggi parliamo di smart city e le tecnologie nelle città del futuro. Presidente D'Apozzo, le nostre città stanno cambiando, le città più importanti stanno rivedendo la loro struttura anche tecnologica e i piccoli borghi sembrano avere nuova vita. È un effetto della pandemia anche questo? Sì, è un effetto della pandemia che indubbiamente troverà le tecnologie digitali ad incrementare quelle che sono le opportunità di sviluppo e utilizzo della città nelle sue componenti smart o definiamole intelligenti, ma in un contesto in cui la piccola città, il piccolo paese torna a non essere un punto di riferimento e così anche la piccola economia. Cioè la gente si sente più sicura, più avvolta all'interno del proprio territorio e questo è un elemento che non va trascurato, quindi l'abbinamento dell'innovazione tecnologica all'interno delle pubbliche amministrazioni, dei servizi e quant'altro, quindi ciò che viene messo all'utilizzo del cittadino, ma un coinvolgimento del territorio per il proprio cittadino, io penso che saranno due elementi innovativi ed anche vincendi. Buon auspicio dal quale cominciare per ascoltare i nostri ospiti, do la parola allo studio. Grazie, rientriamo in studio, allora prima di sentire quali saranno gli spunti di riflessione che ci offriranno i nostri esperti nazionali, vi presento gli ospiti che abbiamo in studio, saluto e ringrazio Cristina Pozzi, CEO e cofondatrice di Impact School, grazie e ben ritrovata Cristina. Saluto poi alla mia destra gli ospiti con i quali dialogheremo in questa puntata, Giovanni Lavarra, la saluto, grazie per essere con noi, architetto dello studio Barreca Lavarra di Milano e anche docente all'Università di Udine, al suo fianco saluto e ringrazio Alberto Zuliani che è vicepresidente della Solari S.P.A. di Udine, grazie anche a lei per la sua presenza. Cominciamo subito parlando di dati che sono il vero e proprio petrolio dei tempi moderni. Lo facciamo con il nostro primo esperto, Eurobeinat, che è a capo del Dipartimento di Data Science e Intelligenza Artificiale presso Prosus Group e NASPERS. Lavora con aziende globali e start-up per sviluppare prodotti e aziende basati su Data Science e Machine Learning. Sentiamo allora subito il suo contributo. Le città cambiano perché cambiano tutti quelli che sono gli aspetti che compongono la città. Di per sé le città, che sono la composizione di tutto questo, sono necessariamente modificate da questa differenza di servizi che diventano servizi intrinsecamente tecnologici. C'è tutto l'aspetto della pianificazione della città che non è più basata su quello che abbiamo visto non so, l'ultimo anno o due anni, ma quello che vedremo. Quindi è un cambiamento in qualche modo radicale, molto graduale, ci vorranno decenni e succederà solo in alcuni casi, ma lo vedremo un po' dappertutto. Per cui non è che solo la città che cambia, è la vita di tutti i cittadini che poi compongono la città che cambia e di conseguenza anche la città. Negli ultimi cinque anni c'è stato anche questo enorme sviluppo di machine learning e dell'intelligenza artificiale per cui le macchine non solo ci permettono di creare dati per capire cosa facciamo, ma anche di interpretarli, prevederli e classificare i comportamenti, eccetera. E quindi tutta una serie di attività che prima erano tipicamente umane poi possono essere automatizzate grazie a questi strumenti. E questo siamo solo all'inizio, nel senso abbiamo appena appena visto quello che è possibile fare. Siamo solo all'inizio, dunque. Continuiamo a parlare di Smart Cities, lo facciamo con Marco Pironti che è assessore ai sistemi informativi, progetto Smart City, innovazione e fondi europei del Comune di Torino. Una Smart City è una città che in maniera intelligente e dinamica risponde alle esigenze dei cittadini ma la vera sfida è quella di partire dalle esigenze dei cittadini e non pensare di imporre loro un'idea di una città che in qualche modo non parta dalle esigenze specifiche. Ci stiamo muovendo su due principali direttrici in ambito di sostenibilità ambientale. Quella che una città non può riscriversi, non può ricostruirsi da zero ma deve partire dalle sue strutture, dai suoi edifici. La tecnologia deve ridisegnare la funzionalità dei suoi edifici. Il secondo aspetto è, è un po' memore dei errori che si sono fatti anche a livello paese, quando si parla di sostenibilità ambientale bisogna non dimenticare un approccio circolare. Mi viene in mente l'esperienza spesso non estremamente soddisfacente dei pannelli fotovoltaici o pannelli solari, quindi immaginare anche che fine farà questa tecnologia a fine ciclo perché anche quello è impatto ambientale non solo di breve periodo ma anche nel medio e lungo periodo. Rientriamo in studio, continuiamo a parlare di città del futuro con Cristina Pozzi. Prego. Abbiamo capito che ci sono alcune parole chiave quando parliamo di smart city, queste città intelligenti. Sono stati citati i termini come la sostenibilità, si è parlato di coprogettare insieme alle persone il nostro nuovo modo di vivere. Allora propongo, anziché parlare magari di smart city, potremmo proprio parlare di un smart living, di un vivere più intelligente che sia anche un vivere meglio. Le smart city ci danno questa possibilità, cambiare la vita dei cittadini in modo che sia più sostenibile, che sia in qualche modo anche più efficiente, ma non è solo questo, sia proprio migliore perché tutte queste applicazioni ci permettono anche di vivere una vita più salutare visto che la città in questo senso riesce a rispettare meglio l'ambiente e a utilizzare molto meglio le sue fonti di energia. Cosa ci serve per arrivare e andare in questa direzione? Sicuramente le infrastrutture, certamente un tema molto importante di cybersicurezza, quindi la tutela dei dati e delle informazioni che viaggiano attraverso queste infrastrutture tecnologiche, così come una maggior consapevolezza di come utilizzare le nostre competenze di cittadinanza digitale. E quindi direi che le due parole chiave finali che aggiungo sono sicuramente trasparenza e fiducia da costruire insieme alle persone sui nostri territori. Questo è lo scenario dunque che si prospetta. Vado dai nostri ospiti, comincio subito dall'architetto Giovanni Lavarra, ricordando peraltro che c'è anche la sua firma nel celeberrimo bosco verticale edificio di Milano che è stato progettato da Boeri Studio che ha insomma raccolto importanti riconoscimenti. Si è parlato tanto di rigenerazione urbana post pandemia e allora le chiedo che cosa va rivisto anche nelle città e nelle località del Friuli Venezia Giulia. Ci sono spazi da ripensare alla luce dei collegamenti, della necessità di disporre di nuove infrastrutture, come si diceva, pensiamo ad esempio allo smart working, ma anche di rivedere e ripensare gli spazi in virtù di quello che abbiamo sperimentato con il distanziamento sociale. Sì, beh, è un discorso che si può fare in generale e poi declinare su una realtà locale. E forse è un discorso che, diciamo, deve guardare un po' in modo raffinato la sequenza di spazi che viviamo. Abbiamo sperimentato durante questo periodo che la casa, l'intorno della nostra casa, il quartiere, sono diventati, li abbiamo visti con occhi diversi e che il nostro quartiere forse deve diventare un luogo più intensamente capace di darci, diciamo così, delle garanzie di funzioni. Cioè ragionare attorno a quella città dei 15 minuti, dei 20 minuti, su cui si sta ragionando, che non è un modo di ridurre il senso della città, non è un modo di sminuire la ricchezza della città, ma è un modo di dare dell'identità per parti alla città complessiva. Cioè pensare a un arcipelero in cui ovviamente alcune cose non stanno nei 15 minuti, ma alcune invece vitali, quotidiane, consuete, ci possono stare, ci devono stare. Allora, l'armatura delle città del Friuli Venezia Giulia consente diverse possibilità di sperimentazioni, dalle scale più piccole alle scale più grandi. Insomma, possiamo immaginare che questo sfumare dal salotto verso lo spazio pubblico possa mettere in gioco tante possibilità, tante opportunità. È chiaro che ci vuole l'energia delle imprese, ci vuole l'energia dei cittadini e ci vuole anche la politica per fare questo. Comunque non mancano le opportunità per sperimentare nuove soluzioni. Questo lo raccogliamo come aspetto positivo? Sicuramente, anche perché come in tutte le città italiane, anche in Friuli Venezia Giulia, la città è molto porosa, molto più di quello che pensiamo. Porosa intendo che è piena di vuoti, piena di spazi che attendono un po' nascostamente in alcuni casi, un po' in modo evidente in altri, e attendono nuove funzioni, attendono di essere occupate. E in un futuro in cui staremo tutti un po' più larghi, forse dobbiamo cominciare a pensare che questi spazi adesso ci appariranno meno problematici di prima. E allora, le Smart Cities passano anche attraverso Solari, quella insomma che descriviamo come l'azienda del tempo, anche se non solo di tempo Solari si occupa. Abbiamo tanto sentito parlare di Internet delle cose, che di fatto dà vita agli oggetti, li mette in condizioni di interagire con l'ambiente circostante e anche di elaborare dati. Allora, io entrerei subito nel tema dell'infomobilità e chiederei appunto a lei, Zuliane, di raccontarci che passi avanti ha fatto fare alle nostre città solari. Ma credo che sia importante quando si parla di città intelligenti di individuare effettivamente poi dei servizi che possono essere di utilità immediata da parte dei cittadini. Per quanto riguarda lo Smart Parking, c'è da dire una cosa, studi ormai consolidati dimostrano che il traffico nelle città per il 30-40% è dato esclusivamente da macchine che cercano di trovare un parcheggio. Girano continuamente all'interno della città con questo scopo. Beh, si può cercare di aiutare questi automobilisti cercando di dare informazioni in tempo reale rispetto alle zone che sono disponibili rispetto al parcheggio, sia per quanto riguarda i parcheggi in struttura, Udine, tra l'altro, c'è un esempio che dura da molti anni, adesso è stato recentemente rinnovato, dove chi arriva sulle direttrici principali della città trova delle indicazioni per quanto riguarda la disponibilità dei posti in struttura, per esempio. Questo è già un buon inizio, ma si potrebbe fare molto di più. Lei parlava di Internet of Things, ma voglio dire la sensoristica in generale oggi ci potrebbe dare la possibilità di monitorare in maniera proprio in tempo reale qualsiasi diciamo disponibilità di parcheggio anche a raso, non solo in struttura e quindi si potrebbe far arrivare direttamente l'informazione al cittadino per esempio sullo smartphone. Un'altra cosa intelligente che si potrebbe utilizzare veramente come servizio soprattutto in questo periodo è legata ai mezzi di trasporto pubblico. Oggi sappiamo che l'80% di questi posti possono essere occupati perché se no ci sono problemi diciamo di vicinanza rispetto alla pandemia che stiamo vivendo. Beh, le fermate ormai possono essere fermate intelligenti, cioè fermate dove ci sono dei display di varie tipologie che in tempo reale possono dare sia l'arrivo del mezzo in tempo reale ma soprattutto con dei contapasseggeri che vengono messi a bordo mezzi possono dare anche il grado di riempimento di questi mezzi. Io la ringrazio molto anche perché insomma la gestione del tempo e poi le informazioni al pubblico saranno sicuramente due aspetti fondamentali in tutti gli scenari futuri che si presenteranno. Ringrazio allora i nostri ospiti per averci raccontato lo stato di fatto e averci dato anche alcune anticipazioni di quello che potrà essere. Siamo arrivati alla fine anche di questo appuntamento. Vi ricordo che al nostro prossimo incontro parleremo di automazione e imprese e come cambia la produzione. Arrivederci.